Già era una gara difficile alla vigilia, in più si va a complicare, anche se secondo me più di quello che abbiamo dato oggi non potevamo dare. Abbiamo pagato parecchio anche per quanto concerne l'esperienza, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno giocato, che sono scesi in campo, perché penso che ognuno abbia dato il massimo. Oggi il massimo secondo me era questo, purtroppo non basta, non so con un'altra squadra se sarebbe potuto bastare, però con Messina sicuramente no. Ci sono dei rimpianti, purtroppo non riusciamo a giocare con una formazione tipo l'inizio campionato. Domenica dopo domenica ci troviamo sempre più in emergenza. Questo sicuramente non è facile, non è facile andare avanti, anche perché dobbiamo fare punti e così diventa difficile. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.